Dopo i rughi arriva la risposta dello Stato. Il caso Battipaglia è finito al centro del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica convocato in prefettura alla presenza fra gli altri del sindaco Cecilia Francese e dei vertici provinciali delle forze dell'ordine. Disposto un tavolo permanente e rafforzamento da subito della vigilanza e dei controlli nei siti che trattano rifiuti e di quelli considerati potenzialmente a rischio. All'incontro era presente anche l'ingegnere Fabrizio Curcio, coordinatore della cabina di regia nazionale per l'emergenza Terra dei Fuochi. La priorità è respingere l'assalto della criminalità al territorio di Battipaglia e della Piana del Sele. Abbiamo stabilito un tavolo permanente di tutte le istituzioni per effettuare controlli congiunti e per rafforzare tutto il sistema dei controlli sulla zona di Battipaglia che è stata interessata dai rughi. Ci sarà quindi un rafforzamento del coordinamento fra tutti quanti e in questo modo attorno al tavolo porteremo anche l'associazione di categoria per ragionare insieme ed individuare insieme le strade migliori. Noi intanto incentiveremo i controlli. Solo unendo le forze secondo me si può affrontare il problema. C'è stata la presenza del dottore Curcio ma c'è le forze dell'ordine, i carabinieri, i vigili del fuoco, finanza, provincia, regione e questo è importante perché la sinergia ci permette anche di condivisione dei dati. Successivamente avremo altri tavoli come ha detto il prefetto coinvolgendo gli imprenditori soprattutto le persone che investono sul territorio, gli agricoltori, le varie forze imprenditoriali. Questo per fare unione, per fare forza ma soprattutto per creare anche una condivisione di intenti. Quindi sono abbastanza soddisfatta.